Le struple, le piccoline, poi quando mettete sotto la raccetta, io mi ricordo che la ricetta è la ricetta. Quindi la ricetta di Laurendis è fatta da Nonna Patire, tu hai scritto la sua ricetta. E com'è la ricetta di Laurendis? Quando mi hai detto la ricetta, mi ricordatevi che sotto la raccetta è una ricetta, non è stata nessuna, ma non la posso dire a voi. La ricetta è segreta della nonna. Ma tanto, noi mettiamo solamente su Facebook, con compagno. Ma così si affolliteremo ai giornalati a Napoli. Lui ha detto addirittura che ha un zio vescovo, presidente, sovive voi, un zio vescovo, così, non lo so. Quindi struppoli che vengono da una casata, che c'è anche un vescovo, vuol dire che sono struppoli. E magari questi struppoli andranno in tutto il mondo, e quindi portano bene, hanno portato bene a lui da piccoli, portano bene a tutti voi. E quindi passano con questi valigi, ogni struppolo sarà un gol.